Noa, cosa ti ha detto? Distruggerà il mondo. Non si può scongiurare. L'uomo ha corrotto questo mondo. E l'ha colmato di violenza. Dobbiamo essere distrutti. Arriva una grande inondazione. Costruiremo una nave per gli innocenti. Madre! Cosa c'è? Loro. Che cosa vuoi? Pensavi davvero di poterti proteggere da me in quella? Non è una protezione da te. Io ho uomini alle mie spalle. E tu sei solo e mi sfidi. Non sono solo. Quando arriveranno, saranno disperati e immorti. Anche i serpenti? Tutto ciò che striscia e serpeggia. Ricorda, Noa, egli ti ha scelto per un motivo. Prendete l'arca! La scelta è nelle tue mani, Noa. Inizia. Noa, egli ti ha scelto per un also. Noa, egli ti ha scelto per un tanto. Noa. Noa, egli ti ha scelto. Noa. Noa, egli state-nare. Noa, ma no! Noa, ecliassi. Noa. Noa. Grazie a tutti